Siamo ancora alla cultura, lo spettacolo al teatro, abbiamo incontrato il noto attore, regista Giuseppe Pambieri, direttore artistico della sesta edizione del festival Spazi e Memoria che si svolgerà da oggi al 22 luglio nel meraviglioso cortile del Palazzo dei Priori a Viterbo. Vediamo. Giuseppe Pambieri, un festival di altissimo profilo a Viterbo, Spazi e Memoria, festival di teatro e danza. Inizia stasera. Inizia stasera, appunto il 10, con lo spettacolo appunto Era Mia ed è la storia di come Eleonora Duse ha sofferto il fatto che fosse respinta dall'annunzio per interpretare la fila di Oria. È un testo molto interessante, è scritto da Antonucci. Questo festival è unico nel panorama dei teatri, dei festival estivi italiani perché riguarda una fascia di tempo molto particolare che è il primo novecento. Dall'inizio del novecento fino al novecento quaranta circa ed è un... ovviamente per essere uno spettacolo estivo è difficoltoso trovare spettacoli di quel genere, soprattutto in estate, per l'estate. È molto interessante perché noi sappiamo tutti quanto è importante l'inizio del novecento per la cultura mondiale, ma in questo caso italiana, dal futurismo che si affaccia da Pirandello stesso, i vari autori simbolisti e quindi quando mi hanno proposto di diventare teatro artistico ci è dato molto piacere. Questo festival è la sesta edizione. È una sesta edizione. Sesta edizione, sì, io sono già partecipato due anni fa con un testo appunto futurista ed è diretto, prima che da me, insomma dal gruppo storico diciamo che è stato quello che l'ha ideato, sono Marco Prosperini e Andrea Oliva a cui si deve proprio la nascita di questo festival. Anche la location è molto particolare e bella. La location sì sì è molto interessante, noi stasera adesso vado appunto perché stasera abbiamo il debutto, è il cortile del Palazzo dei Priori di Viterbo, è un cortile fantastico, bellissimo, dove si può trovare la concentrazione giusta per questo tipo di spettacoli. Vorrei dire, insomma, poi dopo il 12 luglio abbiamo Lettere al Padre che è su Kafka e sono le lettere che scrisse la sorella di Kafka parlando del loro padre, padre che viene visto come una specie di padre padrone, una specie di quintessenza della dittatura, ecco, diventa un po' l'esemplificazione di quello che sta avvenendo poi nel mondo in quel momento, fra l'altro. Ecco, e con Giuseppe Pambieri si chiude questa edizione del Tg della Capitale ampiamente dedicata alla vittoria dei mondiali dell'Italia. Vi ricordo tutti gli indirizzi.